segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te scusate 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 un secondo giovanni mi stringi per favore scusa quindi giovanni scusi scusi elisabetta un secondo scusi avvocato quindi scusi avvocato secondo lei giletti e i colleghi dei giornali parlano in questa storia perché è nero ma si vergogni avvocato ma come fa a dire una roba del genere ma a me cosa importa se è nero bianco giallo ma non si può dire una roba del genere lei non è accettabile una cosa del genere ma lei che la possa dire ma io non l'accetto se l'accetta gomez che ha fatto pagina scusi ma scusi avvocato sentire gomez un attimo go grazie a tutti grazie a tutti